Benvenuti su Meteo Giuliaci. Il tempo è previsto fino agli inizi della terza decada di marzo. Bene, predomineranno le correnti atlantiche con una parentesi di stampo invernale proprio per merito delle correnti atlantiche. Prevediamo appunto tre fasi in questo periodo fino all'inizio della terza decada. Una prima fase tra l'11 e il 15 marzo, una fase di stampo invernale perché in seno alle correnti nord atlantiche verranno trasportati due nuclei di aria fredda in arrivo direttamente dalla Groenlandia. Il primo nucleo di aria polare giungerà all'11, interesserà tutto il centro nord e poi il sud tra l'11 e il 12 di marzo. Il secondo nucleo arriverà il 13 di marzo e interesserà l'Italia tra il 13 e il 15 di marzo. Quindi eventi tra l'11 e il 15 di stampo invernale. A parte le piogge anche sotto forma di rovescio su Emilia, Romagna, al centro sud sono previste ovviamente anche nevicate, però sulle Alpi, solo sulle Alpi di confine perché saranno correnti che arrivano da nord ovest, ma i venti di bore che sfoceranno sull'Adriatico porteranno nevicate sull'Appennino, centro meridionale fino a quote collinari, fino alla Calabria e anche al nord est della Sicilia. Le temperature ovviamente caleranno da prima lunedì al centro nord e poi successivamente anche al sud, un calo tra gli 8 e 10 gradi, cali anche di 12-15 gradi laddove attualmente le temperature massime sono intorno a 23-25 gradi. Comunque non sono previste gelate. Sono previste anche forti venti di Bora sull'Adriatico martedì e mercoledì e sempre martedì e mercoledì, forti venti di Maestrale su Mare di Ponente e l'11 e il 14, lunedì 11 e giovedì 14, venti di Fenn sulla regione di nord ovest. Seconda fase tra il 15 e il 19 di marzo. Ancora corrente atlantica in azione, ma questa volta le correnti atlantiche arrivano dal Meglio Atlantico, saranno più mite e in seno a queste correnti viaggerà una debole perturbazione atlantica che porterà qualche pioggia sulla regione tirrenica e sulle isole maggiore. Temperature che ritornano nella media prevista per questo periodo dell'anno sia un periodo gradevole, né troppo freddo né troppo caldo. Ultima fase, agli inizi della terza decade di marzo, probabile arrivo di un altro nucleo di aria fredda. Ma essendo una previsione a così lunga distanza vorremmo attendere qualche conferma sull'arrivo di questo nucleo, quindi cautela nel prendere per buona al 90% questa previsione. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.